eccomi di nuovo qui con le ultime notizie dal mondo del wrestling ieri lunedì per problemi cardiaci è morto rosey aveva 47 anni era il fratello maggiore di roman reigns in wwe ha interpretato principalmente il personaggio del super eroe in allenamento e è stato parte del team noto come 3 minute warning io me lo ricorderò però sempre nei panni del super eroe affiancato all'uragano che andava a salvare i gattini che non riuscivano a scendere dall'albero e ho un bel ricordo anche di alcuni ragazzi italiani che hanno fatto il cosplay tanti anni fa di questi due personaggi l'uragano e rosey ricordo due ragazzini soprattutto che vennero ad una nostra iniziativa pomeridiana all'hollywood chissà se magari state sentendo questa video rubrica come siete cresciuti se seguite ancora il wrestling se vi ricordate di quel pomeriggio di tantissimi anni fa passando ad altro ovviamente estendendo le nostre condoglianze alla famiglia di rosey secondo Dave Meltzer la wwe sta lavorando per ottenere i diritti del personaggio di broken matt hardy nel tentativo di proporre al pubblico della federazione la personalità che matt ha usato con grande successo negli ultimi anni nelle federazioni nelle altre federazioni in cui ha combattuto eventualmente se così dovesse essere vi terrò informati facendo seguito all'ultima serie di notizie che vi ho riportato shelton benjamin ha dichiarato di non essere sotto contratto con la wwe l'infortunio capitato gli diversi mesi fa dunque gli ha impedito di contrattualizzare la sua posizione con la lega riuscirà a rimettersi in luce beh ce lo dirà solo il tempo per ora credo che bisogna andare con i piedi di piombo chiudiamo con una notizia un po bizzarra perché big e è stato ordinato online ministro sacerdotale boh traduciamola così non ho trovato un adattamento migliore e celebrerà dei matrimoni civili dal 20 al 22 aprile a las vegas sembra uno scherzo ma la news pare avere dei fondamenti essendo stata diffusa anche dal sito ufficiale della wwe e allora eccovi la provocazione di taro venti nei commenti voi vi fareste sposare da big e oppure meglio ancora da quale superstar wwe dal presente o del passato vi fareste sposare in qualità ovviamente di prete di sacerdote e perché datemi una motivazione non vi chiedo il vostro preferito ok vi chiedo quello che più vedete idoneo a ricoprire una carica così importante in quello che dovrebbe essere uno dei giorni più felici della propria esistenza avanti fatemi sapere